Musica Chiusura ufficiale della campagna elettorale per Forza Italia ieri a Trapani. In comizio il senatore Dalì e Giuseppe Guaiana, assessore indicato dagli azzurri in una eventuale giunta a Musumeci. Ai nostri microfoni il parlamentare ha sottolineato l'importanza del voto di domenica anche in prospettiva delle prossime amministrative di primavera. Ascoltiamolo. Questa elezione è molto importante per la città di Trapani perché noi abbiamo indicato Peppe Guaiana come assessore nella futura giunta a Musumeci e quindi adesso vogliamo che sia la volontà anche della cittadinanza a ratificare questa nostra indicazione e a dare forza a questa nostra indicazione. E' importante perché a Trapani si tornerà a votare alle prossime elezioni in primavera come si voterà a Valderici, a Paceco, a Favignana, in molti altri comuni della provincia ma soprattutto nell'area Trapani. E quindi l'indicazione che verrà da queste elezioni regionali per noi sarà importante e sarà momento anche di ulteriore spinta verso un nuovo impegno in quelle occasioni di amministrative. Per il candidato di Popolari Autonomisti idea Sicilia, Francesco Salone, chiusura questa sera a Trapani all'ex Piazza Mercato del Pesce. Con lui sul palco dalle 21.30 il sindaco di Mazzara del Vallo, Nicola Cristaldi, e quello di San Vito Lo Capo, Matteo Rizzo. Infine nel centro-destra Marilena Ciotta, in corsa per Palazzo dei Normanni con Diventerà Bellissima, sarà a rilievo nel circolo Agli di Via Marsala alle 21 con amici e sostenitori in vista del voto di domenica. Per il centro-sinistra invece il deputato questore Paolo Rugirello ha rilasciato le sue sensazioni a poche ore dal silenzio elettorale. L'appello è quello di ritornare sicuramente ai cittadini a dare valore a quello che sono cinque secondi dentro le urne per decidere e decidere con la propria mano, con la propria mente, con le proprie idee. Quali possono essere le persone che in questo territorio devono salvaguardare la gente, devono stare accanto alla gente, devono esserci sempre senza vendersi a nessuno. È una campagna elettorale sicuramente non facile, è una campagna elettorale che inizia il ritardo, ma abbiamo sicuramente messo in argomenti importanti tipo l'aeroporto, il turismo, l'occupazione, le modalità sull'agricoltura diversa che vogliamo, il campo della formazione. Tutto ciò che ovviamente ieri è stato innescato, è stato fatto saltare e che deve sicuramente ripartire nel migliore dei modi, creando agenzie della formazione, creando impegni, non più parole, impegni concreti, fatti che devono essere messi subito dopo il 6 di novembre in discussione nei vari sistemi, all'avola parlamentare, dentro le giunte di governo, che mi auguro con la presidenza del Presidente, il Rettore Micari, possa essere una maggiore forza anche questa provincia. Sempre per i democratici, l'ex sindaco di Erice chiuderà questa sera a Trapani con una passeggiata elettorale fra la gente che si snoderà a partire da Via Garibaldi dalle ore 19. Trancheda è tornato, ai nostri microfoni, a ribadire i punti cardine del suo progetto politico. Lavoro e sviluppo, legalità, sono due ruote dello stesso carretto siciliano che debbano girare assieme. Questo è l'impegno, questa è la mia determinazione per dare una risposta a chi oggi non ha più fiducia nel futuro. Io non voglio arrendermi che questa terra debba per forza di cose sprofondare. Io sono convinto che se ci mettiamo impegno, passione, amore, servizio, questa terra bellissima può offrire nuove opportunità e speranze per cominciare dai nostri giovani, per cominciare a dare una risposta anche a chi pensa che domani sarà ancora una giornata buia. Centro storico che sarà teatro di molte chiusure. Questa sera anche il segretario regionale del PSI, Nino Oddo, in lista con Sicilia Futura, sarà insieme ad amici e sostenitori dalle 22 nel suo comitato di via Garibaldi, prima del silenzio elettorale che scatterà a mezzanotte. Sempre per il movimento dell'ex ministro delle telecomunicazioni, Toto Cardinale, l'ex sindaco di Alcamo, Giacomo Scala, chiuderà la sua campagna elettorale questa sera nella sua città. L'appuntamento è fissato per le ore 20 e 30 a Piazza Mercato. Al fianco dell'ex sindaco di Alcamo, sul palco, ci sarà anche il leader di Sicilia Futura, Cardinale.